A Mira, a una 36enne, è stato fatto di vieto di avvicinarsi agli anziani e genitori a causa di presunti maltrattamenti nei confronti degli stessi. La misura cautelare è stata seguita dai carabinieri della tenenza di Mira lo scorso 5 novembre e la donna, di origine straniera, presunta responsabile di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, alla quale è stato posto anche il braccialetto elettronico, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dai genitori e neppure comunicare con loro. Le indagini erano iniziate a fine ottobre, quando i genitori della donna si sono rivolti ai carabinieri di Mira, esasperati dai maltrattamenti e dagli atti persecutori subiti, querelando la figlia. Già da aprile la donna aveva cominciato a chiedere ai genitori forti somme di denaro, facendo anche azioni di pressione psicologica e violenza anche fisica nei confronti degli anziani e genitori. A Fenergia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso o prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione di tutta di 1,30 euro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.